Senti, risposta secca Lo facciamo con tutti Io ti dico uno, due, te mi dici uno e l'altro Senza motivare non puoi non scegliere Sono otto e basta, è semplice Anche se siamo stati bravi Fedez o Luis? Madonna che fatica Sono sei Non sapevo Su cosa? Cioè così è a cazzo di cane? Non c'è un argomento Dai allora ti do l'argomento Come conduttore di podcast Fedez o Luis? Ma allora per quello che si è visto adesso Ho detto non puoi Indubbiamente Secondo me magari a Luis bisogna dargli un po' di tempo Di capire qual è la cifra Capito? Secondo me Che ne pensi di Muschia Selvaggio attualmente? Cioè come lo vedi? Come era prima? Come era Fedez e Marra? Come è Luis senza Fedez? C'è stato un declino secondo te? Non lo so, te lo chiedo Ma ti devo rispondere come Corona Rispondimi come Fabio Rovazzi Gli occhiali Vai vai la profezia Allora alla terza puntata No dai Secondo me Cioè Fedez è un personaggio molto ingombrante Ma lo è di natura Cioè nel senso che comunque è Molto Non so come spiegarti Cioè grosso Cioè si siede qua Comunque è come Fabrizio anche Cioè Fabrizio è uno che occupa la stanza Prende tutto Co condurre un podcast con una persona di questo tipo È difficile Cioè io penso che comunque Luis Avesse l'idea creativa di Muschia Selvaggio E il nome Cioè Muschia Selvaggio secondo me nasce Io ho questa percezione Poi non so se è vero Magari sto dicendo una cazzata Non lo so Però quello che percepisco io è Luis aveva questo concept in testa Casino Pazzie Cose di questo tipo Poi è arrivato Fede Fede con i contatti Perché la vera grossa differenza è Fede porta gli ospiti Certo Non lo fa Luis Ok E quindi nasce questa cosa Che però inevitabilmente Va verso Federico E quindi poi C'è un patatrac Eccetera Marra invece Quando subentra Marra Marra È un bravo co-conduttore Previssimo Poi preparato Cioè nel senso Era Riusciva a tenere testa Anche a questa cosa di Federico Perché si era secondo me Anche innescato un rapporto eco Che magari con Luis Non c'era Secondo me più che eco Erano ben chiare le posizioni Esatto Sì intendo quello Intendo quella roba lì E quindi sai Lì si crea una bella dinamica Adesso Luis È spogliato di un potere Cioè nel senso Che comunque Sicuramente fa più fatica A trovare i personaggi A capire la direzione Perché poi Io Una cosa che ho sempre detto Luis Io calcola che L'avevo invitato a casa mia Quando lui aveva tipo Diecimila iscritti Ah ok Sì per me l'aveva fatto vedere Omi Sono impazzito Gli ho detto Vieni ci vogliamo conoscere Luis Secondo me Non ha mai Avuto un'identità precisa Ed è la figata di Luis Esatto Che secondo me Capito E quindi Quello che sta succedendo adesso È proprio questo Cioè nel senso Che vediamo Questa cosa Che non riusciamo a capire Che direzione sta prendendo Ma perché Luis è così E suo fratello Penso sia uguale Quindi secondo me Adesso devono ragionare bene Su che mosse fare Ma soprattutto Anche un po' sbattersi Nel cazzo Di questa roba qua E anche noi Dovremmo smettere Di rompere le palle Su questa roba qua Perché secondo me La cosa importante È che loro si divertano E basta Poi Oh Cioè È morta una cosa Arriva 2047 No 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 Il tempismo Quello no No ma tu Un po' di persone Mi hanno scritto questa cosa Ma in realtà Non è minimamente Ma mai Ma magari È scherzo ovviamente Mi credono più intelligente Di quello che sono No 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 Vabbè dai continuiamo Twitch o YouTube Al giorno d'oggi E questa è una domanda Se tu dovessi partire da zero Se non sei Fabio Rovazzi Vuoi metterti ok Online Vuoi cominciare Combattutissimo Ti dico YouTube Ma perché io ho un amore particolare Per YouTube Cioè ho un rapporto con YouTube Ehm Proprio di cuore Ci sono degli esempi di Twitch Per dire adesso Kaisinat ha fatto questa cosa con Si assurda Come si chiama Oddio Se ne parlava anche ieri Oddio Non mi ricordo Non mi viene il nome Perché non lo conosco io Lui l'altro Porca puttana L'ho anche conosciuto L'altro così Fa morire da ridere Ehm Kevin Hart Kevin Hart Ah cazzo Pazzesco Però secondo me C'è una grande differenza Cioè su Twitch Tu sostanzialmente Devi cercare di Rimanere più ore possibili Cioè non per forza Più ore possibili Ma tante ore In diretta E creare qualcosa Che poi venga ripreso Cioè creare Quella roba lì E secondo me Questo ti porta A fare merda A un certo punto Mentre YouTube Ovviamente è un controllo In montaggio Cioè hai una È più secondo me Hai più la possibilità Di fare delle figate Certo Capito cosa intendo Ehm Secondo me lo streamer È molto più difficile Lo streamer è difficilissimo Sembra molto meno complesso E probabilmente lo è Ma è più difficile È più difficile Tipo Cioè Blur Per esempio Che adesso sta andando fortissimo Per me È un alieno Cioè io non so come fa A stare tutte quelle ore In diretta Poi in realtà adesso In questo periodo Anche meno Però Cioè crea quelle situazioni Senza mai andare Nel trash Cioè nel trash totale Cioè crea quella roba lì Giusta Cioè Quello è l'esempio giusto Di quello che dovrebbe essere Lo streamer Mentre altri Cioè cercano proprio la merda Tutto il giorno E inevitabilmente Vanno ad affossare Secondo me Poi mio parere personale Sesso o soldi? Madonna Beh allora con i soldi Puoi fare sesso Con il sesso Puoi fare soldi Questo lo dicono Tutti gli ospiti Tutti gli ospiti Bene Ehm Ma cazzo che palle Sta domanda Ma ha sesso Tutta la vita Gurulandi O muschio selvaggio? Ma assolutamente Muschio selvaggio Anche questa La dicono tutti Iscrivetevi al canale E mettete la campanella Di muschio Ovviamente Muschio Non la gurulandi Disiscrivete Will Smith O Gianni Morandi? Beh no Gianni Morandi Gianni Gianni lo amo Qui gioco in casa Però Vorrei la tua sincerità Sì Lo Zodi 105 O la zanzara? Allora Io con lo Zodi 105 Ho un rapporto Che nasce da quando Sono veramente piccolo Cioè tu calcola Che io ho dovuto dire Alla commissione d'esame Alle medie Aspettate Tra l'altro Faccio questo breve racconto Io costruisco Questo ponte In balsa Terza media Giusto? Sì Terza media C'è l'esame Costruisco Questo ponte Di Paderno Dugnano Enorme In balsa Un bordello Un progetto devastante Un casino Della madonna Sono prontissimo A fare il mio esame Cioè gli altri Erano capito Con gli aeropreni Di carcia Io ero un malato Un secchione Pazzesco Arrivo con questo Ponte gigante Di balsa E tutto A commissione Pronta È il mio momento Il mio slot Mi hanno chiamato Ma Precedentemente Avevo dato il mio numero Allo zoo 205 Per farmi chiamare Da satana E quindi Dico alla commissione Scusate Potete aspettare un attimo E vado in onda Allo zoo Cioè io sono Facevo parte Per un periodo Per un periodo Sono stato parte Della curva Dello zoo In viaturati Andavo sotto la radio In pazzivo Capito? Quindi cioè Io ci sono nato Con quel programma L'ho sempre amato Oggi È inevitabile Che la zanzara Sia fortissima E amo Cruciani Amo Parenzo Devo Se devi scegliere Il mio cuore Sceggo lo zoo Senza niente Togliere la zanzara Senza niente Togliere la zanzara È capito È molto complicata Questa domanda Sì 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 È chiaro Tutto molto interessante O andiamo a comandare? Beh andiamo a comandare Cioè L'ultima Beh immaginavo L'ultima Semplicissima Milano Los Angeles Beh Los Angeles Tutta la vita Sai che pensavo Dicevi Milano? No Milano mi sta Questa mi spiazza È l'unica dove Non avrei indovinato No Milano Cioè Ho finito le PR da fare Ah ok Ok Capito Cioè Siamo gli ultimi Che cazzo Basta Fine Non so No nel senso E poi Los Angeles Ha questa cosa Che puoi scegliere Cosa fare Cioè nel senso Puoi scegliere Fare una giornata In montagna O andare al mare E poi E poi Vabbè Cioè in realtà Cioè in realtà C'è tutta una controindicazione Che è di una falsità Pazzesca Cioè tu quando Se vai da Da ingenuo Los Angeles A terra Fai un aperitivo La prima persona Che approccia Oh my god I'm working in Hollywood I'm the best Tu pensi di aver chiuso Il contatto della vita In realtà è tutta una puttanata Chiunque va là Non conta un cazzo Le persone che contano Fanno parte di una Los Angeles segreta Cioè Tutti i private party Piuttosto che no Sì Ma è riuscita Sì Là avrei delle opportunità nuove Capito cosa intendo Qua Ho sempre delle opportunità Ma un po' Mi sembra di avere Cioè Di avere già il mio network Cioè non devo crearlo Quindi posso continuare Il mio lavoro Su questo network Tocca anche da là Quindi ti sceglierei Los Angeles Chiaro Chiaro Il discorso non fa una piega